Ci sono alcune zone di Ragusa in cui basterebbe fare davvero poco per assicurare migliore vivibilità ai residenti e ai fruitori del sito in questione. E quanto affermano dall'associazione Ragusa in movimento a proposito delle numerose segnalazioni ricevute dai residenti dell'area che insiste in prossimità dell'incrocio tra Viale dei Platini e via Valdossola. Pur trattandosi di una intersezione molto transitata, rimarcano dall'associazione ragusana, mancano del tutto le strisce pedonali. Ultimamente inoltre l'area è stata sottoposta a alcuni lavori legati alla reti tecnologiche e naturalmente il ripristino lascia molto a desiderare. Ma quello che serve prima di ogni altra cosa, per Ragusa in movimento, è mettere in sicurezza l'intera zona con gli attraversamenti pedonali, anche perché a distanza di un paio di isolati c'è la scuola a Palazzello e sono numerosi gli studenti che, all'orario di uscita, arrivano da queste parti attraversando la strada senza alcun tipo di sicurezza. Per non parlare di chi, in auto, provenendo da Viale dei Platani, dovrebbe dare la precedenza a quanti arrivano da Via Valdossola, cosa che spesso non accade, per cui si verificano diversi incidenti. Ragusa in movimento si rivolge quindi all'amministrazione comunale affinché possa prendere in considerazione le segnalazioni in questione e intervenire nella maniera più efficace e rapida possibile.